E allora nipotini ciao buona domenica giusto due secondi con me per annunciare il video che viene dopo e Sofì guardate che razza di bellezza unica comunque oggi Sofì, Codegoni e Selin sono in questo ristorante qui e adesso vedete Selina le prese col cibo ciao Vi lascio con i jeans di Selin bellissimi e i leggings di Sofì Pianti addome appunto vita effetto push up va a lavorare ovviamente su ripensione, gonfiori, nefettismi che ti doro completamente il tessuto stir che è veramente ragazze una salvezza per le gambe